si si tornano giù dai si hanno fatto l'ospeso di amaro una piccola pollustrazione non si vede nessun altro animale cinghiali, fagiani, lempri caprioli belli su queste creste vive di Calanco guarda che roba cazzo cazzo eccoli bellissimi ce ne è uno sopra ecco che scendono sta raggiungendo la franona aspetta che gli seguo si sono più in basso guarda che c'è l'aschi guarda come è bianco sotto ecco la viga che è andiana non è lì sulla frana adesso vediamo la traversa no sta sul Calanco ecco 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 lì si vedono bene perfetto ecco si attraversano lì guarda dove sono già gli altri ecco lì sto fermo lì sì anche perché ce n'è uno anche lì su esatto se si contassero ah guardalo qui un altro anche qui su si sto fermo lì dai voglio vedere se sfilano ecco tre quattro cinque sei sette sono ancora in campo eh in coda c'è sempre secondo me lo zotto ecco adesso in campo ce ne sono quattro cinque sei sette si si è di brutto lo sciancato guardalo è l'ultimo adesso sta per entrare nel si si cammina proprio ok adesso sta bordando la ginestra l'ultimo in più in alto che adesso è voltato verso di noi ok più rossiccio aspetta e piegalo tu un po' più verso il basso perché ho paura di farlo vibrare stavo trovando delicatamente devo rallentare ok sono lì devo andare lì più in basso perché ce ne sono degli altri anche lì ok questi ce n'era uno questo quello lì che è più è di quelli più rossicci trezzo un mare di più ma dopo perdiamo poi del campo che qui no qui in genere lecchi parecchi comunque ma mi sa che vengono in giù eh beh ottimo è tutto orientato in qua attorno al passato è un luogo di partenza gira che tiri e gira ho fatto un giretto dai belli si stagliano abbastanza bene dentro il recinto in realtà questi luci tra un po' rientra in scena anche quella sinistra che sta eccolo perfetto che è rientrato nel gruppo quindi ce n'è uno due tre quattro cinque sei e uno uscito di qua si sono andati anche di qua guarda che corse che fanno belli guardali guardali che giocano che perlone i tre adulti sono questi due e quello più rossi tra 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 adesso non ci capisco più una mazza comunque sembrava che belli ma guarda che scene di gruppo ma queste immagini sono notevoli beh non sono poi no no però sono belli comunque si potremmo zoomare di più però adesso si vedono a meno perché sono finiti in mezzo all'arbetto sai vedo l'attrezzatura che li puoi seguire anche più fluidamente è che va un po' rigido ah ma rispetto all'altro anno va già grasse questa è una testina già più smordabile smordabile so che i grovigli di lupi lì si vede una panza che di uno a testa da testa è quello chiaro vedi che appena ci si gira si nota di brutto mh il povero sciancato sta facendo esercizio stamattina stava mettendo giro a parola per cercare di seguire il gruppo non mi sa che tutti ce n'è uno rimasto anche più su due rimasti un po' più su quindi torniamo a nove uno è sdraiato lassù vicino alle erbette gialle all'inula aspetta non c'è in campo qua no sto provando a contare uno, due, tre ci sono due ci sono due mi sembra nove c'è questi poi ce n'è uno l'ha sdraiato vedi c'è quello allora vediamo un attimo uno, due, tre cinque sei è tostissimo in sottofondo c'è gente che ci sono tutti attività quotidiane c'è la signora che canta mentre sta spolverando la casa chi smartella chi smartella i bimbi che giocano un normale sabato come fine c'è un po' più fuoco qui in campo ne hai otto è proprio sdraiato che sia lo sciancato questo allora sono adultoni in piedi che si vede allora questi qui sono nove quindi quello la è il decimo 4, 5, 6 questi sono 3 7, 8, 9 e quello su 10 quindi 10 ancora dai c'è lo sciancato insieme secondo me io concluderei così di novità che probabilmente è sempre stato marginale al gruppo questo chissà o con gli altri giovani comunque hai una serie di fototrappole da scaricare o no? cioè stai filmando ancora? sì ma adesso non ci girano più perché sono qui ah ok no io qua non ci vado dentro a metterci niente no no però intanto qui attorno ogni tanto le lasce sì 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 sono circondati ogni tanto usciranno per cacciare gli adulti quindi anche lo sciancato lo sciancato adesso vediamo sì comunque secondo me è proprio quello perché io quello che prima identificavo come sciancato stava proprio bordandoli dalla ginestra stava scendendo seguendo il gruppo e là si è accosciato lo sciancato accosciato un po' di siesta guarda che la gamba due ole c'è un bel branchetto anche adesso tutti insieme guarda che roba due tre quattro cinque sei sette otto nove sono lì e dieci con quello la perfetto dieci lobby su una frana adesso ci li ho inquadrati tutti dieci ah sì lì a limite ci hanno sciancato sdraiato gli altri stanno passando non so ah sta giocando con qualcosa c'ha qualcosa in bocca forse un bastone se non è un osso lungo mazza ragazzi che spettacolo qui sono perfetti fanno il loro contrasto è migliorata anche la luce che è andata via un po' di freschia dai apriti è andato anche più freschino prima ma che non hai il freddo e il miglietto ma io stamattina si ho dato subito le cose di corse e abbiamo ecco ecco allora Grazie.